Ragazzi miei, avete letto bene il titolo, adesso arriva il bello. Adesso il vero Milan verrà messo alla prova. Allora, sono state delle partite, queste diciamo un pochino più easy, a livello di difficoltà. Allora, il Milan le ha quasi superate tutte perché dopo il doppio scontro, diciamo, Atalanta e Newcastle, che erano due squadre tostissime, dove nella prima sicuramente il Milan un pareggio poteva strapparlo, mentre nella seconda si è portata a casa i tre punti, ha avuto una serie di partite dove bene o male, diciamo, forse era la parte di stagione più semplice per quanto riguarda il calendario. Se devo ripetere, ve lo ripeto, Monza, Salernitana, Sassuolo e Empoli. Con in mezzo ovviamente il Cagliari in Coppa Italia. Di queste partite bene o male il Milan ha steccato solo quella di Salerno. Bene o male, male perché quella è una partita che il Milan aveva l'obbligo di vincere, però bene o male l'ha risolta Salerno. Oggi ha fatto una prestazione, almeno per quanto riguarda la cattivella sottoporta, molto molto buona. Poi ci sono degli aspetti da curare che poi vi elencherò uno per uno, ma andiamo per gradi. Il Milan intanto oggi si porta a casa il suo terzo clean sheet in quattro partite. Monza, anzi cinque partite se vogliamo proprio includere anche la Coppa Italia, proprio per quanto riguarda il campionato sono Monza, Sassuolo e Empoli senza subire gol. Sette all'attivo, zero al passivo, il che per come era partita la stagione non è assolutamente da buttare via. Bilancio dell'anno solare 2024, che comunque vede adesso sette gol attivo e uno subito. Considerato che comunque l'Inter non ha giocato in Coppa Italia, abbiamo subito un gol a testa. Poi, anche per quanto riguarda quello che succede all'altra parte di Milano, ci sarebbe tanto a discutere, ma il nostro canale parla di Milan, e allora noi al Milan ci atteniamo. Per guardare i contenuti che riguardano l'Inter ci sono 800.000 youtuber interisti, e andate a prendere informazioni da loro, io non sono nessuno per poter parlare di quella squadra lì, se non quando affronta il Milan. Tornando a noi, la partita di oggi ragazzi non è stata brutta. Intanto devo dire che oggi l'Aftus Chic si è preso l'Empoli, se l'ha messo sotto i coglioni, e si è vinto la partita da solo, perché questo è stato il Milan oggi. Il Milan oggi è dipeso da un Loftus Chic in forma più che incredibile, che prima fa un gol. Ricordate ragazzi che il gol che sblocca il risultato è quello più importante. È quello più importante perché poi, soprattutto una partita così, ti permette di, se hai la testa, di gestirla in maniera diversa. Ovviamente anche a Salerno avevamo sbloccato, a Napoli avevamo sbloccato, e a Lecce avevamo sbloccato, e poi i problemi sono stati tutt'altri. Detto questo ragazzi, l'Aftus Chic non solo segna il gol di 1-0 su un assist di Leao, dopo una giocata, una ripartenza fatta con i Fiocchi, perché Giroud che fa la sponda, cioè lui ha fatto una cosa sola oggi, oltre tirare il rigore, fare la sponda per Anders che la dalle A, insomma è stata un'azione, penso, una delle più belle viste quest'anno. L'Aftus Chic calcia il piattone, qui sfiderei qualsiasi portiere a prenderla, e c'è il gol del vantaggio. Non contento, l'ex Chelsea, che quando, ripeto, non è rotto ed è in giornata, è una cosa assurda, lo scrissi anche in un... o quando ho fatto il pagellone sulla community, che l'Aftus Chic, ragazzi, fosse un giocatore che... fosse un giocatore costante, soprattutto da livello di come si sente fisicamente, giocherebbe titolare nazionale, ma senza problemi, si procura un calcio di rigore che, netto, io qua adesso ragazzi, faccio un piccolo disclaimer, non voglio sentire nessuno, nessuno che parla di rigori del Milan, perché l'ultimo rigore sarà il 28 novembre, poi c'è chi gliene vengono assegnati, sette in sei partite, e ha pure il coraggio di lamentarsi. Oggi, sui rigori del Milan, voglio tutti i muti. Tanne che chi dice che è netto, perché effettivamente l'area, il tocco di mano, lieve, pesante, rimbalzante, quello che è, è fallo, punto. Insomma, si procura il rigore che Giroud trasforma, fa 11 su 13 col Milan dagli 11 metri, ha sbagliato purtroppo Giroud due rigori importanti, perché l'ha sbagliato contro Napoli l'anno scorso, e che veramente poteva distruggere da punto di vista emotivo, e l'ha sbagliato in Champions League pure quest'anno, contro il Borussia Dortmund, e che se avessimo sbloccato quella partita, sicuramente saremmo parlando di tutt'altra cosa. Però, ragazzi, purtroppo il calcio va così, a volte si vince, a volte si perde, c'è chi non lo capisce, ma io, almeno personalmente, l'ho sempre capito. La partita va avanti, si sveglia l'Empoli, che arriva più volte vicino al gol, Mignan fa solamente una parata alla fine, su cancellieri, però, molti tiri pericolosi vengono comunque ribattuti, da Ternandez, e uno, credo, da Gabbia, se non vado errato, che Gabbia è il crunnice della difesa, c'è neanche tempo di farlo atterrare a Milano, che già hanno mandato a un campo operaccio, poveri, anche poveri noi, che lo vediamo. Mi avrebbe fatto giocare Simic, probabilmente sarebbe finito allo stesso, con lo stesso risultato, però, spazio ai giovani, mai. La risolve? In realtà non è che la risolve, la chiude definitivamente, Ciaka Traoré nel finale, col secondo gol, in due partite, da praticamente riserva, perché la partita scorsa era titolare in turnover, questa volta entrato dalla panchina, e questo dimostra che in Milan, ovvio, questi giocatori ragazzi, non sono pronti. Non sono Gimenez, Simic, Camarda, Traoré, Adli, non sono pronti. Adli, sicuramente meglio di crunnice, però Adli, io voglio muovere una piccola critica, non so quanti saranno d'accordo con me, sul fatto che Adli, con i piedi, è uno dei giocatori più bravi della Rosa, insieme a Reinders, ma, a livello di velocità, è tra i peggiori, perché, quando la palla è sui suoi piedi, il gioco è lentissimo. È una caratteristica che, secondo me, se Pioli se ne accorge, o l'allenatore, che speriamo verrà al posto suo, dovrà tendere a migliorare, però, per quanto riguarda i piedi, ragazzi, è un fenomeno, ma quello l'abbiamo sempre saputo. Questi ragazzi, ripeto, non bisogna di fiducia, non bisogna di giocare, però, se all'ottantacinquesimo su 2-0 puoi affrontare Simic, affrontare Gabbia, evidentemente, questa cosa non è applicabile. Gimenez è un fenomeno. Tutti quelli che c'erciuti nella cantera di Real Madrid sono fenomeni. Non è una novità. Anche lì, fai partito al titolare Florenzi, che stranamente si è rotto, potevi far partire Gimenez anche questa volta come premio per la partita scorsa, e non l'hai fatto. Va bene. Traore che dimostra a Leao, col gol del 3-0, quanto sia semplice fare un gol su contropiede e quanto sia semplice fare gol a tu per tu col portiere, e Leao questa cosa evidentemente non l'ha ancora capita. Evidentemente non l'ha ancora capita. Leao che non tanto prima, a forse 6-7 metri dalla porta, spostato sulla sinistra, alla destra del portiere, aveva sui piedi un gol molto facile da segnare, modestamente per il giocatore che è Leao, decide di spararla, facendo praticamente meta, se giocasse a rugby. Esce dal campo, entratore contropiede, lui e Pulisic, Pulisic gli passa la palla, controlla, tira e segna. Cioè, ma voi vi immaginate se ci fosse stato Leao al posto di Traoré, si ferma, prova a saltare un difensore, poi salta quell'altro che intanto è rientrato, tanto è rientrato anche il centrocampo, poi prova a saltare il portiere e manda la palla fuori, perché questo avrebbe fatto Leao. A me dispiace dirlo, perché è forse il giocatore più forte della Rosa, ma questo avrebbe fatto. Chaka Traoré, classe 2004 della primavera, ha stoppato la palla, ha tirato e ha fatto gol. Poi ci chiediamo, perché il Mian in campionato ha segnato solo due gol sul contropiede? Questa è la motivazione, questa è l'immagine, la descrizione del perché. Perché in contropiede ci vuole la freddezza, ci vuole la cazzo di freddezza. Ci vuole due o tre giocatori che portano palla e quello che deve concludere, conclude, deve concludere a rete. Ed è quello che Chaka Traoré ha fatto. Due gol soli in contropiede, malissimo quest'anno. L'Inter ha fatto più gol al Milan in una partita di contropiede che il Milan in metà campionato. Io spero che questo gol in contropiede, io spero sempre, ma tanto chi vi stia sperando sapete che fino ha fatto, serva un po' per far capire, soprattutto ai titolari, che poi Pulisic è un titolare che ha fatto un assist della Madonna, cosa significa concretezza sottoporto. gol è che comunque, ragazzi, è arrivato nel miglior momento dell'Empoli, perché l'Empoli stava veramente rischiando di fare l'1-2 che comunque avrebbe riaperto la partita sotto ogni punto di vista, bene o male, è arrivato questo 3-0 che gli ha definitivamente condannati a perdere la partita 3-0. Per quanto riguarda il resto, ragazzi, l'abbiamo fatto uscire un pochino troppo, poi è ovvio che le squadre quando vogliono segnare, tranne il Milan, cominciano a forzare e quindi è normale che tu poi vai a correre qualche rischio. Forse abbiamo corso qualche rischio di troppo, nonostante la partita fosse 2-0, però è stata brava difesa lì a tenere botta. Quello è stato molto importante. Ci vuole il culo, ma il culo va da chi lo cerca. Questa è la pura verità. L'importante soprattutto con avversari così è colpire nel momento in cui loro, come dire, nel loro momento migliore. Quando sai che si stanno avvicinando pazientino e pazientino al gol, è lì che devi colpire. E il Milan è quello che ho già fatto in Empoli. Io non posso neimproverare niente a nessuno se non forse le ha, perché comunque si è portato a casa un assist e quindi la sufficienza se la becca sicuro, però la sufficienza è anche quella che a volte mette nel provare a rendere complicate giocate che anche i giocatori meno forti di lui farebbero, credo, in scioltezza. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio. Ci vediamo domattina con le live reaction che piano piano oggi monteremo. Anzi, monterò da sole e poi la vedrete. Vi ringrazio di cuore. Ci vediamo appunto domattina. Ci vediamo anche per Atalanta-Milano il 10 gennaio che è quella sana partita, ragazzi. Adesso, mosso cazzi. Mosso cazzi. Non so, io penso ci siano più giocatori infortunati questa volta della volta scorsa. Vediamo. vediamo cosa mi tirerete fuori. Vincere sarebbe molto importante perché Milano e la Coppa Italia deve puntare nonostante non sia un trofeo che mi faccia impazzire. Però se volete salvare la stagione qualcosa a casa vi dovete portare. Detto questo, grazie a tutti. Ci vediamo. Lasciate il like, iscrivetevi, seguitemi su Instagram, su TikTok, su YouTube, Twitch. Sono da per tutto. Basta cercarmi. Ciao a tutti ragazzi e grazie. Grazie.